ciao momi, che fai? capito? ancora finisci? ok, poi ci vediamo, va bene, ti amo momi, bacini, ciao ciao cioè non so, mi hai fatto le minacarie in tempo reale, perché? e il glucosio, ogni cazzo di telefonata che fate, mogi mogi momo momo ci amiamo ma te, allora ma che vuol dire ci amiamo, ma che è? capito? se tu sei geloso, se tu sei geloso perché non hai nessuno che ti ama ma cosa, ma cosa geloso? perché poi faccio il fornication tutta la vita, che tra l'altro sarebbe pure ora che hai 40 anni e te cerchi una storia seria no no, non abbiamo parlato mille volte, io mi sono rotto il cazzo delle donne, ho già dato, sto a posto così non è vero, ma te non eri così, eri tutto carino, le camicie, i mazzi dei fiori, i regali, i gioielli, i anelli, non mi ricordo, mi rompevi il cazzo ma che cosa, ma sto bene così adesso, forse perché mi sono rotto il cazzo di quelle cose ma no, ma ti è successo qualcosa che ti ha fatto girare i coglioni ma a me deve essere successo per forza qualcosa ma sono succede queste cose chi è il mio piccolo canetto? e chi è il mio piccolo canetto? ma tu sei bello, tu sei bello, come la mia vita in questo momento, eh? sei bellissimo Matteo, ciao, dimmi ciao dobbiamo parlare ti devo dire una cosa, che è successo ecco, tu sei come una Lamborghini in mezzo a una rotonda quando devo andare a lavorare ma che cazzo vuol dire? vuol dire che tu sei bellissima e io ti voglio tantissimo ma me stai proprio sul cazzo, io devo andare a lavoro, sto a ritardo, capito? ma che vuol dire? ma stai a parlare di me o di Lamborghini, scusa? Matteo, non carbone, hai capito? non carbone poi io faccio altre bongette, capito, Matteo, Matteo, no male grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti